ragazzi lei off ok come mostra bravo max complimenti grazie un altro assist da fatto all'assist no è stato bellissimo l'assist l'assist lo fa sempre è il capitale ma tu devi far quello gianni la fascia è scoperta e può avanzare tentativo di cross bello hai perfetto ecco qua va bene va bene è benissimo è bravo sento la casa il party che fa cadere secondo me si anche io mi sento cazzo di bene infatti ho fatto io il party che fa cadere bella così bravissimo va bene bene lo stesso bene lo stesso bene lo stesso vedetemi cosa finita quasi perfetta della sua squadra stanno facendo letteralmente quello che voglio capo gianni consiglio perfetta riescono a vincere puntualmente tutti i contrasti in ogni zona del campo sottoporta poi si stanno rivelando l'età di come è morto è morto bravissimo che bravissimo siamo qui il portiere è bravissimo partita che sembra già decisa siamo ancora ma perchè non quittano esci facciamo esci usciamo grazie 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 grazie